buonasera youtubers oggi per il quarto titolo di cui mi occuperò e faremo insieme questa avventura mi occuperò del seguito del già giocato dragon fantasy infatti oggi giocherò inizierò il primo episodio di dragon fantasy 2 iniziamo name the hero questo gioco ciao no fammi prendere uno e poi basta mmm anzi piglierai questo saldi vai mmm non lo so vai no no ah beh ecco al posto del berserk quindi lui lo chiamo Raven il mio cavaliere santo non poi un salchio caluca non praticamente non qui e vai ah si vai non prenderlo qui però questo conviene non è a modo che 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 Eh, si, dobbiamo andare a sud allora. No, anche questa volta non si può correre. No, anche questa volta non si può correre. No, anche questa volta non si può correre. Il berserk è molto forte fisicamente, però è troppo rifiuso. Usa uno che attacca e basta senza che lo posso controllare. Perché tante volte, so, lui ora è stato ferito, lo devo curare. Se tante volte uno che mi cura muore lo devo rivivire con uno che non può fare almeno. Quindi mi serve sempre un quarto personaggio libero che possa fare supporto nel supporto. Ecco, è quello che... ed è rifiutato avere un personaggio troppo. Non fa me... No. Allora Non c'è nulla Non trovi nulla Non c'è nulla Non c'è nulla Ah, prima di andare qua Andiamo al villaggio Ah, prima di andare qua Ah, basta No, non c'è nulla 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 nulla, nulla trovo un cazzo I don't think that the lack of rain will don't know my plans any good andiamo a vedere qua pensa che dice qualcosa nothing nothing, nothing c'è nulla, nulla, nulla nulla nothing e non c'è cazzo qui c'è qualcosa antidote bene bene watch out when you go down to there are dangerous fields of poison that kill to kill cause bodily harm when worked upon no 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 vai via vai via da qui no 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 c'è qualcosa no 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 Sì, mi piace quando parliamo di magica oggi potremmo imparare tutti i diversi tipi di magica che esistono nel mondo i svobedi lo scato se lo scato si 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 do you wish to read books? yeah you have grown an area e questo qui in area e vuoi ne? hmmm all right you're feeling a book entitled the wonders of the healing hell do you wish to read this book? yes you flip open the book and search each page ground in areas with a warm damp climatic the healing hell can be a great asset to any adventurer whether they be new or all big or more being a plant with magical properties eating just one will restore your body and make you feel fresh and young once again you find a book in the dark lord do you wish to read this book? yes you flip open the book and search each page years ago the dark lord very real caused a big darkness to blanket the world with his very home power he seeded away the light of the world thus causing the crystal to come into being they were the planet's last hope it's a last source of light however even the crystals themselves could not stand against the dark lord eventually fell not being able to buy the power to its fallest potential they chose four great warriors who did use it for them and using this great light the four did banish the lord of darkness a way to beat a tunnel of lumber you find a book in titular fenix flame do you wish to read this book? yes you flip open the page the book and search each page many years pasted a great bit of fire it's so across this vast seas of blue lingerie overheard it's possessed of a flame so bright that even the deepest of darkness could not thrive seeking seeking this light sage set traps for this ever elusive creature in attempt to gain this unfathomable power unfathomable they had indeed managed to get the creature to follow their plan yet they lost many numbers in doing so in the end the great beard died yet a small flame still alive the great sage recovered the flame and hunted them to tally its power however they did not succeed the flame rejected them and tortured whoever dared to trifle with it so in retaliation the great sage hid the flame away with a great tower never to be seen again you find a book entitled the dark lord volume 2 do you wish to read this book yes you flip open the book and search each page many years after his seeing the dark lord begun to move once again seeking to gain its original power back into its own hands after the crystal of the crystal which was used to seal it obtaining the crystal farm himself the dark lord released the great heirship diabolos and took off into disguise hackable creation ingering over mankind for many years was the source of his power Venetura with Venetura at his disposal the dark lord had enough power to again cover the world in perpetual dark night to be continued to be continued to be 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 continued to be continued to find a book called the dark lord volume 3 do you wish to read this book yes you flip open the book and search each page at the time of the dawn the dark world whereby yet another hero had been born to the village of yore bearing the mark of the savior this child had been destined to end the long days of darkness just as the legends had foretold seeking renounce from a great and noble warrior and skillful mage and powerful diviner they all departed beyond the sky to Venitura this palace of darkness is where the final battle occurred light versus star and in the hand the light triumphed and Varil was finally destroyed with the dark lord gone the heat regaining its power and the crystals could finally rest in peace sacrificing themselves they destroyed the outer layer of Venitura and sealed its core within a crystal square from the one the one peace runs open through the lands ok abbiamo letto tutta la storia passata dove c'era la citazione anche di del primo dark fantasy e primo dragon fantasy egia 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 e siamo famosi abbiamo salvato il mondo il mondo e sarvo grazie ai eroi miau miau i i non sembrava molto lungo Oh, I just hope my little boy is all right We went to Zambui with his grandfather and I just don't know how they are to make it back The paths are leading to Zambui filled with darkness It is so thick that no evergreen flame can lie the way I feel for his well-being I tried to pass into Zambui the other day but had no luck and reached the town The cave usually naturally lit is now filled with darkness Evertorch will bount of the shadows Ok Ok Hmm, I wonder if they got the shiny warning stock Ok The bronze The bronze Fillout Fill out Fill out Fill them Fill out Fill out Fill out vendiamo i pezzi in più allora per la stessa la stessa la stessa la stessa la stessa la stessa alloggi a letto il resto io ho non la lettre confusamente why are there books at this weapon shop or something andiamo su questo che dice che ci dirà I'm here to watch over the third room su andiamo su e questo c'è quello di armature allora trovo trovo armor cloth allora pegiamo uno per eroe uno per questo ah questo ah lì c'è un po' di oggetti che ci potrebbero servire ora che cacchio vai muoviti però prima di ritornarci andiamo a vedere che cosa c'è in quella grotta su che ho visto che c'è in quella grotta su 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 che c'è in cui con il giusto e che c'è in questa grotta su che c'è in quella grotta su su beh questa è una specie la verma qualche mostro ci sarà piccolino qualche mostro piccolino una miniera una miniera forse pensi che giro ah this is i could join if i found a good people ago un ago loro people no no non c'è nulla non c'è nulla hey what are you doing in our clubhouse i can't get this stupid thing to work i can't get this stupid thing to work the nulla ehh lo flamela ah you found a slime it'll give you a cheerful smile and crawl into your heart you can't take it and place it into it and push e che cazzo mi fa di uno slime friend ah sarebbe un affare collezionabile bene qualcosa di di un pochino più diverso delle solite come cavolo si chiamavano le medaglie da le medaglie le mini medaglie c'erano vabbè allora l'entrata qui non è stato proprio del tutto inutile e ora che dire continuiamo a vedere a fa un po' di match i combattimenti per ripigliare gli altri e finire di ripigliare le altre armi allora continuiamo continuiamo qui ci dovrò andare in futuro e so già dove devo andare in futuro vabbè qui cari youtubers io ho presentato la trama ingannirine di quello che è successo e io ho fatto vedere il gameplay in stile molto più retro di dragon fantasy questo gioco è stato creato tramite rpg maker 2003 come come raccontato come spiegatovi dopo questa battaglia vinta e dopo aver ottenuto anche dei merita di soldi Arkanan vi saluta e vi aspetta per la prossima parte del dragon fantasy q ciao